mister guidi ci siamo parte la stagione ufficiale il campionato si fa sul serio come arriva il gubbia questa gara di trieste ma arriva bene perché i ragazzi hanno sempre si sono sempre allenati con grande voglia con grande determinazione con grande spirito e quindi è un mese poco più che lavoriamo e penso che siamo pronti per affrontare questa partita sappiamo che sarà una partita molto difficile complicata con una delle favorite candidate numero uno alla promozione serie b una squadra che ha cambiato pochissimo rispetto alla stagione scorsa ed ha effettuato un mercato solamente migliorativo per la rosa portando in sé dei giocatori molto importanti come ferretti gomez giorico e paoligno quindi insomma una squadra molto forte una corazzata sappiamo che per fronteggiarla servirà grande personalità servirà grande umiltà però ho detto questo con grande rispetto cercheremo di essere protagonisti e cercare di fare un'ottima partita una buona prestazione per portare dei punti a casa l'undici da schierare in campo ce l'ha già tutto deciso deve ancora sciogliere qualche nodo ma in linea di massima sì ce l'ho nella testa chiaramente poi ci sono alcuni dubbi che mi porterò fino fino all'ingresso in campo perché ho la fortuna di avere tanti giocatori una rosa piuttosto omogenea che quindi fa sì che possa scegliere in base a quello che ho visto durante gli allenamenti in base alle intensità che riescono a tenere soprattutto anche in base alle caratteristiche degli avversari tutti convocati c'è qualche defezione situazione cenciarelli se ne è parlato in settimana no no sono tutti convocati partiremo in con 22 calciatori gli unici due che sono rimasti fuori sono fondacci e michele dicato due due beretti per il resto sono tutti e tutti a disposizione cenciarelli è un giocatore del gubbio è un giocatore che è molto attaccato sia alla società che a me al mio staff in particolare e quindi cioè sono state spese tante chiacchiere ma a volte meno parole sono il silenzio sono più importante che di mille chiacchiere fatte a vanvera cioè io nel momento in cui e se ci fosse una situazione particolare cenciarelli saremmo i primi a metterle al corrente ma cenciarelli a tutti gli effetti un giocatore del gubbio e vuole giocare nel gubbio l'ultima battuta è un esordio anche per lei in serie c quindi sensazioni anche da parte sua di questa vigilia no un'emozione bellissima sarà una partita molto prestigiosa insomma il mio esordio farlo con la triestina al nereo rocco quindi uno stadio straordinario una città meravigliosa una città gloriosa una società gloriosa quindi non ci poteva essere battesimo battesimo migliore speriamo di riuscire a fare qualche punto e soprattutto una prestazione importante bocca al lupo grazie grazie